Mi pare che la buona riuscita non solo della paese ma in generale delle nostre iniziative diventerà il fatto che c'è tra noi una buona riuscita alla scuola e all'amministrazione. Il sessore voleva darci una mano e ricordare alcune organizzazioni che è bene ringraziare per il loro contributo. Grazie, è un piacere più che un dovere intervenire questa sera. Ovviamente per fare complimenti a tutti i bambini perché sono stati bravissimi e naturalmente anche agli insegnanti che li hanno preparati così bene. Ma come sempre, come giustamente ricordava la dirigente, abbiamo avuto nel corso del tempo molte occasioni per vedere come sono bravi e come funzionano bene le nostre scuole. Sono contento anch'io del bellissimo rapporto che ci unisce con l'amministrazione comunale e scuola. È un attorno della comunità, una copilità di intenti. Insieme agli auguri di buone feste da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione comunale, volevo ricordare ai bambini ma anche ai genitori che all'uscita c'è un piccolo rinfresco. Per chi si ricorda era un impegno che ci avevano presi a seguito di una particolare legione all'inizio della scuola. Questa sera, grazie anche alla presportiva Castellana, all'aiuto della presportiva, del gruppo Alpini e della protezione civile, questa sera per i bambini ma anche per i genitori, c'è la panettione di bruvete caldo e cioccolata calda. Auguri ancora buone feste a tutti. Grazie.